Bentornati sul canale non ho aperto questo blog Io sono il Gons e oggi sono qua a fare la reaction del trailer di It Parte Seconda Niente, mettiamolo e vediamo come va Oggi sono senza occhiali da sole perché Ovviamente se dovete vedere la reaction magari è meglio farla con gli occhiali normali Sì? Cosa desidera? Io abitavo qui Si accomodi E' il meno che posso fare E' come se la ricordava? Più pulita Beh, dia un'occhiata, faccia un giro, intanto accendo il bollitore Braccio d'inverno I capelli tuoi Dove il mio cuore brucia Ecco il tè Grazie E un po' di musica? Vecchio è pazzo Già, mi dispiace moltissimo Ma in questo periodo dell'anno qui fa veramente caldo Sto bene Si ha sempre la sensazione di stare per morire Lo sa cosa dicono a proposito di Derry? Ah? Che chi muore in questo posto è come se non morisse in realtà Oh mamma, è inquietantissima No, ti prego Ma com'è ritornare di Derry? È inquietantissima, madonna i brividi Oddio, mi sono cagato Strano Oh cielo Mi aspetti qui Madonna Non voglio disturbare, è meglio No, 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 insisto Che belle queste foto, signora Kersh, la sua famiglia? Quando mio padre venne in questo paese aveva in tasca solo quattordine Che lavoro faceva, signora Kersh? Mio padre lavorava nel circo Un trailer o il film? No, guardalo, madonna mia È bello Io sono sempre stata la bambina di papà Lo era anche lei? Sei ancora la sua bambina, Beverly? Lo sei? Eccolo La riunione del Club dei Perdenti è ufficialmente aperta Ce la faremo se resteremo uniti Salve Allora, 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 allora Devo dire che sono piuttosto impressionato Perché il trailer è veramente... C'è tanta roba C'è addirittura un'intera clip con questa scena lunghissima La vecchia è inquietante di brutto Devo dire che un po' mi sono cacato Perché comunque è l'atmosfera... Cioè, sono entrato proprio nell'atmosfera Non so Mi casa abbastanza Anche se sono riduce dal film precedente Che comunque era un buon film Girato bene Però poi alla fine non faceva molta paura Questo con gli attori adulti Forse è un pochino più... Un pochino più horror Me lo auguro almeno Non lo so Sono preso bene Mi piace Devo dire che mi è piaciuto il trailer Certo, è il trailer Poi vedremo come sarà il film vero Io spero che sia più horror Anche se non ho grossi... Grosse speranze Perché comunque È un... Non è un secolo Cioè, è proprio la seconda parte Quindi è... Cioè, c'è il stesso regista È tutto la stessa troupe Quindi... Però forse sarà un pochino più horror Comunque benvenga Nel senso che comunque è un buon film Sicuramente sarà un buon film anche questo Guardabile Magari poi in realtà ci stupirà tutti Niente, questo è tutto Per la reaction Adesso devo ragionarci un po' Magari ne parliamo Anzi, ne parliamo Nella live che faccio Domenica pomeriggio alle 5 Parliamo di questo E parliamo di tantissime altre cose Horror Se il video vi è piaciuto Mettete like Iscrivetevi al canale Lasciate un commento E ci vediamo al prossimo video 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 Ciao